nemmeno questo fermerà il toro che sei arrivederci tia questo lo striscione che ha accolto in piazza spozio a san fermo all'arrivo del ferretro di mattia vitale il motociclista di 34 anni morto mercoledì scorso nello scontro frontale con un auto sulla statale 394 al confine tra varese casciago san fermo piange un altro figlio recitava un altro cartellone appeso sui palazzi del quartiere davanti alla chiesa di santa maria erano schierate decine di moto rombe delle due ruote si è muscolato alle lacrime dei suoi amici bikers molti dei quali hanno lasciato il loro casco ai piedi dell'altare durante il funerale e l'uscita della barra è stata accompagnata dalle scassate delle moto dai fumogeni e dai palloncini bianchi e blu liberati in cielo poi tutti in sella dietro al carro funebre verso il cimitero di vigiù dove mattia riposerà per sempre grazie grazie grazie